Radio Cicap Il podcast nuovo di Zecca del Cicap Ma un paio d'ore ce l'avete? Un argomento che ci sta sempre molto a cuore Pronti? Via! Sofia? Eh sì, una tradizione tradizionale Sonia? Tutte storie di cucchiai piegate Raffaele? Ma davvero nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola E poi tu Enrico? No Questa è stata la grande storia dell'estate del 2017 Invece ha detto male all'infallibile gatto Peo In che senso gatto? In senso felino Qualcuno vede Pluto Previsioni del futuro Saltuari e pungenti sensi di colpa Si chiamano notizie paranormali Perché stanno girando questi stregoni muta forma che vanno in giro a tagliare le treccia E persone che credono di essere state la regina Elisabetta Prima in una vita precedente Qui a Radio Cicap Accettabile? Buono Intanto io, Sofia, insieme a Sonia, Raffaele e Enrico Vi salutiamo Come sono andata? Come sono andata?